Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta alle castagne. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uvetta ammollata nel rum, zucchero, farina di castagne, fecola di patate, latte, lievito per dolci vanigliato, vanillina, uova, burro, pinoli, gocce di cioccolato e sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e le uova. Ed azionare il bimbi per 5 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere il latte, il burro ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 4. Aggiungere la farina di castagne, la fecola di patate, la fecola di patate, la vanillina, il lievito e il sale. Ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 4. Aggiungere l'uvetta che abbiamo strizzato ed azionare il bimbi per 30 secondi, anti-orario, velocità 2. Versare il composto in una tortiera da 26 centimetri ben imburrata. Aggiungere i pinoli, le gocce di cioccolato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 50-60 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. torta alle castagne, grazie e alla prossima ricetta. Aggiungere i pinoli, Aggiungere i pinoli,